Noi inizieremo la serata, proprio come, diciamo, prende il nome, proprio il titolo, se tu ce lo dici. Ocler della Luna, ovvero dovrebbe essere al chiaro di luna in francese, tradotto in italiano. Quindi il nostro attore, Pasquale Rea, ci farà vedere qualcosa, una chicca, che io ancora non conosco. È una sorpresa. È una sorpresa. Andiamo avanti. Non apriamo ancora? Sì? No? Non lo so. Siamo pronti? Sì. Pasquale Rea. Siamo pronti. Pasquale Rea. Siamo pronti. Sì. Sono qui? Ma è attraverso. Non ci ha visto che aveva rattato, non vi preoccupate. Ma che faccio riuscito? Che vuoi questo? Sono qui. Non sono qui. Non sono qui, vuoi, vuoi. e poi doveva vedere, quando è verità a me non va accaduto per me, non va accaduto per lui io sono anche gli altri io sono anche chi non aveva bisogno di nessuno io basta a me stesso io mangio io cammino se io voglio venire dove vuoi voi non siete i padroni mie sono anche io padrone vostre voi credete che quando ti dite ai altri voi siete il padrone di ai altri io voglio vedere è ai altri che si tratta di venire dove vuoi ma se non lo vuoi siamo avanti dove è? perché stia ai altri? io non mi avanti io ti voglio fare mi voglio fare io ti voglio riuscire lavoro ma con me nessuno non è con me cane che scena io faccio le coccole io scena io i crocchette da io ho capito che ci vuoi invece no io sono di me stesso nessuno è un padrone mio nessuno tu mi puoi capire tu che passi notte insieme a me quando nessuno c'è sta quando ognuno va a dormire e pensi a dormire tranquilla rende il sonno suo e io vengo a dormire il suo padrone e parla luna io parla luna la gente diceva che è scema che a mille notte parla luna ma perchè parla luna? perchè l'uomo non sente l'animale parla con la luna perchè è inutile parlare con voi perchè voi non sentite voi non capite voi non sapete invece se no questa è vita mia mi sentite mi guardate ascolta mentre voi uomini neanche tra di voi ascoltate voi non lo capite nemmeno povero voi ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ma non siete sicuri che lo dite voi e non lo dite noi animale quando dite questa parola pavete capire tutte cose Non capite, noi i figli, i figli, noi per i figli ci acceriamo, voi no, e allora siete sicuri che fra me e voi uomana, il meglio siete voi. Ma non capite niente, io sono la città, la città niente, che è la più cattiva, perché poco l'ora è quella che fa capire qualcosa, sono solo niente, perché è questo che mi ha avuto così, all'occhio sua, io che bello, così come sono, è per me che sono niente, è per me che sono niente, è per me che io sono fame, pensate che sono sempre stato così, o che sono così per sempre, no, pure io, non sa l'ora, racconti fatto da me, dice di capire da me, perché pure io, pure io, si ha chiamato, sono gaiata niente.